Ed eccoci qua, siamo tornati. Ben ritrovati ragazzi, è sempre un piacere fare qualche chiacchiera insieme a voi, cercare di analizzare un po' le partite della Juventus e vedere un attimo che cosa salta fuori, quello che può essere un po' l'andamento, l'andasto generale delle prestazioni dei bianconeri. E quindi siamo qui per analizzare El Las Verona Juventus decisa da un gol di Moise Ken. Ieri sera vi ho già portato comunque le pagelle, le trovate qui sul canale YouTube e invece qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare numero 10 dove ho fatto il post partita effettivo della gara. Quindi se volete andarvi a vedere un attimino quello che ho pensato a caldo per El Las Verona Juve trovate tutto sul numero 10, quindi magari fatevi un salto qui sotto in descrizione per scaricare gratuitamente l'applicazione. Ma direi di passare subito alle pagelle perché chi ha tempo non perda tempo, non aspetti tempo e quindi analisi, più che le pagelle all'analisi della partita, analisi Verona Juventus 0-1 appunto gol di Moise Ken. Lo faremo con il match report di Soccerment, come al solito viene messo a disposizione gratuitamente. Se volete questo match report anche voi per ogni partita basta scrivere su Instagram o su Twitter a Soccerment oppure andare sul loro sito e verrà presto implementata anche la funzione per il download del report che come sempre è molto utile e importante per cercare di sviscerare appieno quella che è stata la prestazione della Juventus. Comunque trovate il link per la piattaforma di Soccerment qui sotto, sempre in descrizione anche questa. Insieme ad una cosa che poi citeremo un attimino più avanti, cerchiamo di ragionare un attimo sui tiri in porta. Verona Juve, quindi più tiri per i padroni di casa, come potete vedere 15 tiri per il Verona e 11 per la Juve ma a livello di macro occasioni siamo 1-1 e lo potete vedere dalla dimensione dei pallini. Quindi ce n'è una clamorosa sul secondo palo per Davidovic, penso che si chiami così, il giocatore che era capitano dell'Ellas ieri sera che sul secondo palo non è arrivato per un millimetro, ma praticamente all'inizio del secondo tempo. Un'occasione grossa, grossa. Per l'Ellas forse anche una mezza dormita per la Juventus e invece quella di Moise Ken è stata concretizzata al meglio. Quindi noi abbiamo avuto una macro occasione, l'abbiamo sfruttata, l'Ellas ha avuto una macro occasione e no. E quindi Ken riesce a concretizzare per i bianconeri dopo la deviazione decisiva del difensore e regala i tre punti ai ragazzi di Allegri. Partita purtroppo non spettacolare, come testimoniano gli expected goals. 1.08 per l'Ellas, 1.16 per la Juve. Stiamo parlando veramente di niente, le occasioni sì ci sono state, ma sono state tutte occasioni un po' randomiche, occasioni un po' così. Sì, a caso, Ken l'ha buttata dentro e ci ha regalato tre punti. Questa è la cosa che alla fine della fiera conta di più, però la partita è stata brutta contro un'Ellas Verona, veramente in crisi, nera, ultimo in classifica, con pochissimi punti conquistati. Non mi aspettavo onestamente una partita così complicata, me l'aspettavo complicata, ma così è decisamente troppo. Parliamo un attimo dei dati, perché secondo me è stata una partita insieme dell'imprecisione. La Juventus e Lella si arrivavano spesso e volentieri nell'ultimo terzo di campo, e soprattutto anche nell'area di rigore avversaria, perché l'Ellas ha fatto 20 tocchi nell'area della Juve. La Juve ha fatto 27 tocchi nell'area dell'Ellas, quindi vuol dire che le due squadre, bene o male, di là ci sono arrivate, no? In qualche modo. Poi mancata la precisione nel cercare di concretizzare, di convertire, no? Questa facilità nell'arrivare nell'area di rigore avversaria, con dei tiri in porta precisi o che potessero creare, appunto, delle occasioni da gol. Quindi imprecisi nella finalizzazione, con possibilità invece di creare delle vere e proprie occasioni, come vedremo poi, soprattutto nel secondo tempo. Una cosa che ho notato, e che veramente è stata clamorosa secondo me, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo in realtà, questa cosa non ce la siamo tolta di dosso, è la Juventus che ha veramente cercato di orientare la partita completamente, forse unicamente sul lancio lungo alla ricerca di Milik o di Moise Ken. Forse perché, dopo qualche partita con Milik più Miletti, avevamo a disposizione due attaccanti e quindi una spizzata di testa di Milik poteva creare quella palla pazza per Moise Ken che ama attaccare la profondità. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, la più banale. Però Juve ha veramente fatto tantissimi lanci lunghi e questi lanci lunghi si sono rivelati però essere decisamente imprecisi. Come possiamo vedere abbiamo avuto il 14.6% di passaggi lunghi ma la precisione è soltanto del 42.2% che significa che probabilmente dobbiamo sfruttare meglio o questa soluzione o una volta magari che ci rendiamo conto che quella soluzione non è più ideale utilizzare qualcos'altro, cioè cercare di cambiare lo spartito dalla gara. Poi per fortuna è andata bene, ci siamo portati a casa i tre punti e quello che volete, però sapete bene che questi video di analisi nascono appunto dalla necessità di non fermarsi solamente al risultato perché quello lo possiamo vedere tutti aprendo numero 10, vediamo, ha vinto la Juve 1-0 sull'Elas Verona, sì. Però cerchiamo di capire com'è stata la partita. È stata una partita sicuramente abbastanza equilibrata, abbastanza equilibrata. Che vinciamo perché siamo più bravi nello sfruttare quell'occasione lì, però attenzione che quello che dobbiamo portarci dietro via oltre alla quinta vittoria consecutiva che è tantissima roba, oltre al terzo posto in campionato che è tantissima roba per come si era messo, oltre al quinto clean sheet di fila che è tantissima roba ma portiamoci dietro il fatto che comunque loro dalle nostre parti ci sono arrivate e noi probabilmente la gara l'abbiamo non preparata al meglio perché poi alla fine lo spartito si è rivelato abbastanza inefficace perché non siamo riusciti a creare determinate occasioni da gol e forse nemmeno a resistere come volevamo alle occasioni da gol degli avversari. Finalizzazione, è quello che vi dicevo prima, è stata una partita brutta e infatti sono contento che Soccerment abbia aggiunto i valori sull'asse Y quindi per vedere un attimino il valore degli expected goal perché magari senza il valore per capire che siamo arrivati a 1.0 quel picco incredibile dicevo wow la Juve si è svegliata, no, stiamo parlando di una macro occasione che è stata concretizzata quindi guardate il primo tempo ragazzi, primo tempo terrificante ma da una parte e dall'altra terrificante nel secondo tempo pericoloso inizialmente il Verona, lo dicevamo prima con quella macro occasione sul secondo palo e poi Ken fa l'1-0 ragazzi, come con l'Inter, mi sembra di descrivere la stessa gara, gol sbagliato, gol subito vecchia regola del calcio, sempre verde, sempre funzionante, sempre concreta e poi c'è calma piatta fino al finale dove qualcosina si muove ma poca roba perché anche lì poi c'è stato un po' di imprecisione, Verdi con la punizione, Verdi con quel tiro dritto per dritto la Juventus che prova ad arrivare là con Di Maria con quel tiro che ha fatto probabilmente il tiro più bello della partita è quello che non si è infilato alle spalle del portiere perché veramente era un numero di alta classe, di alta scuola si è mosso qualcosina ma poca, poca roba e infatti secondo me questo grafico ancora una volta io ribadisco io sono innamorato di questo grafico perché ci fa veramente capire al 100% come è andata la partita e se siamo in grado di ricondurre quei picchi nel grafico anche ai momenti, alle istantanee della partita riusciamo veramente a capire quali sono stati i momenti determinanti, i momenti più importanti e io da qua leggo una sola cosa, meno male che Moise Ken l'ha buttata dentro perché se Moise Ken non butta dentro quella palla lì i tre punti non vengono a casa con noi questo grafico parla chiaro, in assoluto e allora mi sono salvato i dati a fine primo tempo esattamente come avevo fatto con l'Inter e poi ci sono i dati finali come sempre potete trovarli su Soccer, mentre il link qui sotto in descrizione fine primo tempo, controfischio finale vediamo una netta crescita dal punto di vista di occasioni per entrambe le squadre ve l'ho detto prima, primo tempo brutto e infatti 0-11 expetti di gol per il Verona 0-13 per la Juve nessuna delle due doveva fare gol perché non ci sono state occasioni davvero clamorose ce n'è stata una dell'Ellas che però viene considerata fuori soco anche se in realtà è Lucatelli a dare la palla al 77 dell'Ellas e poi nel secondo finisce con 0-97 contro 1.9 quindi non una gara spettacolare ma con 15 tiri a 11 il che significa che poi è un po' esplosano questa partita nel secondo tempo un po' come era accaduto con l'Inter infatti Juventus sicuramente più cinica nel trovare il gol è l'unica cosa che mi viene da dire analizzando la partita e i dati e ricordandomi anche quello che è stato il secondo tempo e le occasioni della gol in generale del secondo tempo che è stato il tempo dove si è cercato con più assistenza la via del gol e appunto ancora una volta come con l'Inter nel secondo tempo abbiamo avuto sì meno possesso perché nel primo abbiamo avuto il 66% di possesso palla abbondante però tante volte con dei retropassaggi molte volte con del possesso palla sulla nostra linea difensiva molte volte il panno arrivava Perin Perin nel primo tempo aveva fatto 23 passaggi e Ken solamente 8 una roba del genere 7 quindi era un possesso palla abbastanza sterile inutile, inoffensivo invece nel secondo tempo meno possesso palla perché abbiamo iniziato a giocarla meno nella nostra area di rigore o metà campo ma un po' più in avanti infatti come abbiamo visto siamo arrivati comunque più volte nell'area avversaria poi non siamo stati in grado di sfruttare quelle occasioni però più occasioni effettivamente le abbiamo avute così come le hanno avute più loro quindi un secondo tempo un po' più aperto dopo un primo tempo ragazzi che secondo me primo tempo che molto sulla falsa riga di Sampdoria Juve o Lecce Juve quindi quando andiamo in trasferta facciamo queste prestazioni un po' così anche contro le squadre più abbordabili tranquillamente modulo è sfasato è sfasata questa grafica ma ve lo spiego cioè inizialmente iniziamo con la difesa 3 no? 3-5-2 poi ci mettiamo a 4 Danilo passa da terzo centrale centrale di sinistra a centrocampista Costi ci addirittura va a fare il terzino quindi la grafica viene sfasata per questo motivo viene costruita con i passaggi che fanno i giocatori nelle porzioni di campo quindi Danilo ha fatto un po' di passaggi lì e poi ne ha fatti un po' a centrocampo vedete che inizia a stringersi un po' di più molto 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 stretti i tre centrocampisti Locatelli Fagioli Rabiu lì quell'agglomerato lì con Fagioli magari un pelo più verso il centro-destra perché? perché ribadisco poi siamo passati a un modulo strano con Fagioli che si allargava forse si alzava un pochettino non ho nemmeno capito come ci eravamo messi mi viene da dire forse a rombo con Danilo davanti alla difesa Locatelli un po' più a destra e Fagioli un po' più avanti non lo so perché non si è capito tanta confusione secondo me nella gestione della Juve infatti non ho capito ancora il motivo per cui Danilo a un certo punto è andato a fare il centrocampista però poi questa cosa anche questa cosa ha contribuito a portare a casa i tre punti Ken fuori dal gioco abbiamo detto anche prima al primo tempo ha toccato meno palloni per in però freddo io aggiungo Fortunato sull'1-0 che ci regala tre punti pesantissimi perché dico Fortunato? perché qualche mese fa questa partita non l'avremmo vinta il che significa che qualcosa dal punto di vista anche della fortuna nei singoli episodi sta cambiando non vorrei ricondurla tutta a un discorso arbitrale io di quello ho già parlato comunque su numero 10 e oggi non faccio vedere delle foto come per dire queste qua erano quelle con l'Inter ricorderete che avevo analizzato un po' di episodi non ve le faccio vedere per un motivo semplicemente un motivo e cioè che in questo momento non sono ancora uscite le guidelines di Dazono della Serie A sul canale ufficiale perché sto registrando la sera stessa della partita sono le 11 di sera e registro a quest'ora perché domani mattina partirò ho un treno molto presto infatti voi vedrete questo video in pausa pranzo e io sarò a Roma per giocare la finale di YouTuber League appunto tra Juventus e Lazio nella quale indosserò Exceed e poi vi porterò il video analisi della finale come vi ho portato con Milan e Inter che cos'è Exceed? il parastinco intelligente di Soccerment comunque trovate sempre il link qui sotto in descrizione oltre alla piattaforma Soccerment anche della possibilità di acquistare Exceed per essere protagonisti anche voi delle vostre prestazioni mi dispiace non potervi portare qualche immagine però uno non ho ancora le immagini disponibili e due che immagini posso portarvi? l'abbiamo visto fino adesso non c'è stato chissà che cosa quindi dopo aver visto, ascoltato capito, compreso, commentato contestato questo video magari fatevi un salto sul canale YouTube di Dazon o il canale YouTube della serie andatevi a rivedere gli highlights della partita perché tanto vi sfido e anzi io pagherei qualcuno per rivedersi questa partita perché non so con che coraggio si possa rivedere questa partita quindi guardatevi i highlights e cercate di capire se l'analisi è stata abbastanza lucida chiudo con un piccolissimo un piccolissimo appunto perché è vero che è la sera stessa ma ho già pubblicato le pagelle e vedo tanti che mi stanno dicendo che probabilmente il mio mood non è l'ideale per una vittoria la quinta vittoria di fila che ci riporta al terzo posto in serie A io concordo comprendo capisco però non me l'aspettavo una Juve così in difficoltà probabilmente io sono sempre stato abbastanza cauto nelle ultime settimane continuo a dirvi di non montarvi la testa di rimanere con i piedi per terra forse perché io ero il primo a volermi a volermi illudere non a illudermi a volermi illudere però questa Juve è ancora malata questa Juve è ancora malata questa prestazione quella con il Lecce non dico che sia la stessa prestazione con Monza e Sampdoria perché magari qualcosina è cambiato dal punto di vista dell'aggressività della voglia di portarsi a casa il risultato ma dal punto di vista tattico sono quasi la stessa partita quasi la stessa partita con la differenza che qua qualche episodio viene concretizzato penso a quel Sampdoria Juve 0-0 brutto bruttissimo se Kosti ci fa quel gol al novantesimo dopo che Allegri lo sposta sull'esterno destra alla destra e ha quella possibilità di buttarla dentro che cosa pensiamo che con la partita sia andata bene no probabilmente la andiamo a commentare esattamente come questo Verona Juve o come Lecce Juve quindi squadre zona bassa della classifica contro cui facciamo fatica facciamo molta fatica e se riusciamo a trovare l'episodio e l'episodio riusciamo a trovarlo anche in maniera positiva e quindi si concretizza vinciamo la partita in caso contrario no non significa che sia una vittoria da buttare via perché per me le vittorie non sono mai da buttare via cioè quando arrivano tre punti te li tieni e sei contento però se devo dirvi di essere soddisfatto no questo no sono contento per la vittoria non sono soddisfatto perché so che questo è troppo poco è ancora troppo poco sono contento per la vittoria perché arrivi in un momento di difficoltà degli altri è in un momento in cui noi siamo meno in difficoltà rispetto a prima e quindi questo concatenarsi di eventi mi tranquillizza un pochino ma non posso esserne soddisfatto mi dispiace fatico a essere pienamente soddisfatto di questa vittoria non ce la faccio sarò soddisfatto in caso di vittoria ulteriore contro la Lazio domenica sera allo stadium perché quella veramente diventa vitale per regalarci un'ultima possibilità di classifica in cui possiamo respirare a pieni polmoni prima del mondiale un mi piace a questo video se vi è piaciuto un commento per raccontarmi un po' anche la vostra posizione e un in bocca al lupo per Youvelast domani sera finale di YouTuber League grazie a tutti grazie a tutti